Se sei in cassa integrazione o benefici di un'altra misura di sostegno al reddito e ti senti escluso dalla vita attiva della tua comunità, da oggi puoi partecipare a Diamoci una mano. Tanti progetti realizzati dalle organizzazioni del terzo settore insieme a comuni ed enti locali hanno bisogno del tuo impegno e delle tue capacità. Dai la tua disponibilità e partecipa da protagonista alle attività di utilità sociale. Rivolgiti al tuo comune o all'associazione del terzo settore presente nel tuo territorio e scegli quella giusta per te. Diamoci una mano! Grazie!